Solo Macerie titola in prima pagina la nazione di oggi e dalle macerie a livello nazionale e a livello locale parte la nostra discussione. Ospite come al solito di occhio per occhio Carlo Brandini Dini. Mi permetto di solidarizzare con i nostri connazionali colpiti dal terremoto ma di sentire dalle parole di Errani che ha aumentato ieri con il solito decreto legge di due centesimi la benzina dicendo che gli italiani capiranno. Gli italiani hanno capito da un pezzo, siete voi che non avete capito una sega, che dovete dimezzare i vostri stipendi, il vostro numero, i vostri compensi. Ieri sera Crozza che ha devoluto interamente dal teatro l'incasso ai terremotati ci ha fatto capire che uno steno dattilografo del Parlamento italiano guadagna più del Presidente degli Stati Uniti. E allora io penso che sia vero perché prima di dicerare una cosa del genere penso che Crozza si informi, ma questo è l'assurdo della nostra situazione. Terremoto ad Arezzo con Fanfani, quindi da dove vuoi partire? Ti vede un po' agguerrito perché questo occhio per occhio ce n'è anche uno lacrimoso. Sì, di molto. Sì, sei commosso. Quando vedo te, mi vieni da piangere? Allora, vai. No, niente, ho saputo una notizia che è veritiera per la fonte che me l'ha detto, che Fanfani mira ormai ad andare a Roma, è tutto impegnato, vuol tornare a Roma in tutte le maniere. Dice un po' di bugia ad Arezzo, si presenta sempre per via di questa dimissione di tre assessori, Arezzo mi vuole, Arezzo... Adesso, io ne ho trovato uno che lo vuole, ma insomma, per dire, l'ha votato... Grazie a te fare le strade... Sì, faccio altre strade, comunque, l'hanno votato dal 62%, è passato dal 52%, lui per lui è una vittoria eclatante, eccetera. Più sono tante, con l'idea di andare a Roma mi sembra che trascuri un pochino il comune. E nello stesso tempo... Innanzitutto, riassumiamo così, tre assessori hanno tagliato la corda e lui non l'ha tagliato, gli gira, c'è il coglione... Sì, perché... Ci c'è da tagliare, va a tagliare. Ma gliel'ha detto, eh, per le corde... Gli ha fatto capire, per tagliare... Ciò nonostante, io dico che lui, la notizia che io ho avuto, che lui si sta avvicinando a grandi falcate verso il gruppo, la corretta, insomma, di Montezemolo. L'Italia dei Carini, come direbbe Crozza. L'Italia dei Carini e lui spera il prossimo anno di essere capolista. Quindi il PD non lo manda a Roma, come funziona? No, 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 il PD non lo ricandida sicurissimamente. Facciamo un appello noi? No, no, io no. Al PD? No, 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 no. Ma via, ma che lo manda a Roma? No, sì, sì, no. Allora l'arvo qui, non trovo... No, no, no. E allora mandiamola a Roma, no? Ma poi non andrà a fare l'avvocato, perché lo sa, fa benissimo, che è molto bravo. Hai anche avvocato? Deve fare, sì, è molto, molto bravo. Io pensavo fosse pittore... No, 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 è pittore bravo. Come pittore? Sì, per i schizzi. Legge Dante. Per i schizzi, guarda, dice che ora meno, ma prima... Guarda, legge Dante benissimo. No, no, legge Dante è una lagna. Sì. Ma legge Dante è una rottura dei coglioni, questo te lo dico io. Io ho paura che tu non te ne tendo. Se senti Benigni e poi senti Fanfani e come vedi Napoli e poi muori, se vai a Versa, te spari. C'è la stessa differenza. E allora questa, vedi, la sopia per me era bravo. Insomma, fai nomine chi ti ha detto questa cosa di Fanfani? No, no, niente, è una voce che viene dalla politica. A me me l'hai detto. No, no, dai. Tanto non serve a niente, serve solamente a far ridere la gente. La notizia è vera, perché se no non la direi... Sennò poi la fonte, capito, si essicca. Se noi diciamo la fonte... No, 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 sicuramente, cioè, è vero che gli hai detto, no, io l'ho trovato, io l'ho detto, sono tutte... Cazzate, la fonte è ufficialissima. Ascoltà, sai che il 2 giugno Napolitano ha detto che ci sarà una sfilata, una parata sobria, che non ha capito che cosa intende, cioè non c'è le frecce tricolori, i dalpini spilano un pigiama, i sommozzatori senza pinne con le canne da pesca, come caccomena, ha spilato a sobria. Io ho fatto una dieta a lui, ti ho i telefoni. Allora, parliamo dell'ultima cosa seria che accadrà ad Arezzo, che io ho preso dal giornale perché quel torsolo del Nicchi non mi ha telefonato. Adriano Nicchi ha un duello tricolore con Di Fiore dove rimette in paglio il titolo. Sì, domenica ero a scena con Nicchi, era a pranzo con Nicchi. Con Nicchi, me lo potevi anche dire? No, anzi, mi raccomando che non lo sappia. Ah, ok. Non lo sappia, domenica. Fa piacere. E niente, c'è questo incontro a Prato, è stato fatto a Pullman. L'incontro sarà bello. Allo stadio Lungo Bisenzio e in alternativa se dovesse piovere al palazzetto. Bravo, bravo, sì. Ho i punti vendita, le prenotazioni per un Pullman perché sarà formato un Pullman. Fra Cassi Viaggi. Sono preso Fra Cassi Viaggi di Arezzo che è in via Guido Monaco e alla palestra dei Nicchi in via Leone, Leoni e il Fiorfiore che è in zona Marchionna che non so che cosa sia, probabilmente è un bar. Credo che sia un'agenzia di viaggio. Ah sì? Ma non lo so, no, no, non lo so. Comunque, vedi, quando sono al mio rompi i coglioni, sono al tuo, è una cosa normale. Anche questa ti voglio fare. Sì. Sì, è Luca Cordero di Motte. Guardi, guardi, dottor Cordero, è capitato a Piserio. Anzi, vado in diretta, dottor Cordero. Non so, non si può. Lo posso mandare in diretta? Sì, sì. No, non vuole andare in diretta, però ci manda in culo a noi. Complimenti, dottor Cordero, complimenti perché a D'Arezzo lei sta mettendo... E a chi si dà? Ma parlo io, parli te. No, dico, a chi si dà Fanfani? No, ma ora si parlava di Luca Motte e Zeva. Scusi, ora ci sta da fare un rompacogno, c'è tutto il giorno a giro senza... Sì. Con le Ferrari, ora noi siamo... Tante cose, di nuovo, di nuovo. Vento di saluto all'Angiolini. Sì, sì. Che poi, scusa, D'Angiolini è tra i fondatori del Circo di Montezemolo e Fanfani a Cerrimo nemico. Questa è una cazzata che l'appoggia a Luca Cordero di Montezemolo. Poi te la dico, su. Carlo Brandinidini, anche te avrai due cognomi come Luca Cordero di Montezemolo. Tammano hai detto un po' le cazzate. Se ho detto la verità... Se hai detto la verità si gioca una scena per tutti i nostri spettatori. Ma siamo oltre, su per tutti, siamo oltre, che coglioni vanno a te se spennere. I spettatori. Se voglio dire, ah, i spettatori, quelli che... quattro. Quindi quattro, tre e sei. Senti. Ma si è finito? No, sì, si è finito. Ora questa volta... La tancato con il Cerbai. No, no, ma con il Brunetti. No, perché è stato superato da Brunetti. E il Cerbai sono 43 anni e Brunetti 48. Ma Brunetti per la macchina è sempre simpatico, Brunetti. Ma a te sei sempre sulla magistratura. No, no, no. Ah, percora ti ha levato dai coglioni a te? Sì, sì. Siamo andando via tutti. Tutti, tutti. Allora, basta, chiusa. Chiusa. Ma poi, e ce vai? Basta. Basta, non si parla, ma Brunetti, ce vai.